Tullio Gasperi ha mantenuto nella vita, anche alla sua venerata età, una freschezza, una giovinezza mentale. E ha rapporto positivo con il mondo, persona positiva. La capacità di trovare, di sperimentare, insomma, e secondo me è una caratteristica della giovinezza. Sperimentando la vedere, anche in maniera molto positiva, anche a persona. Certe volte è un limite, però dall'altro punto di vista è una cosa che rilascia liberi da certe impostazioni, certi condizionamenti anche intellettuali che magari altri hanno perché si sente l'obbligo di essere a passi, di seguire, insomma, un certo percorso coerente che certe volte è una cosa limitante. Sperimentando la giovinezza 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 Sperimentando la giovinezza